andiamo intanto che la gente si colleghi diretta come sempre flash improvvisata un po come come insomma come si sente ok anzitutto ringrazio tutti quelli che si stanno collegando ciao a tutti bene siamo già verso i 40 abbiamo superato i 40 bene dai aspettiamo qualche secondo intanto così apro anche computer caso posso vedere meglio il tutto ciao 8 sonia saveria sì che bella sorpresa guarda io cerco di fare le dirette quando posso e quindi improvviso e un po si fa sia l'effetto sorpresa dai qui ci si vede ciao giuseppe carla ciao ciao adesso vi spiego tutto carla mi chiede come dire ora dire basta è ora di dire basta adesso entriamo nel merito dirò il perché siamo già un po insomma abbiamo superato i 60 dai adesso aspettiamo un attimino buonasera a tutti dio vi benedì che innanzitutto non dimentichiamoci di essere figli dell'altissimo quindi innanzitutto buonasera la pace sia con tutti noi perché è importante avere pace nel cuore in questi momenti dove il demonio vuole portare via la pace del cuore ecco quindi innanzitutto ciao francesca freddi lella concetta scusate se ho perso qualcuno ma intanto mi sto sto guardando anche un po in giro intanto perdo comunque saluto tutti ringrazio tutti quelli che si stanno collegando gloria dio sempre sia lodato gesù cristo anche buonasera alex patrizia regista salvatore ciao ciao a tutti benissimo grazie freddi che mi segui sempre anche se faccio fatica io a seguire me stesso da chi riesce a seguirmi io lo ringrazio più che altro per il supporto ecco diciamo supporto anche vicendevole che ci scambiamo perché è importante anche quello che mi dite che mi scrivete insomma non è che sono da solo qua siamo una comunità io ci metto un po la faccia e voi che il signor ci benedica ma marica ciao a tutti ciao a tutti benissimo benedizioni anche a te alessandro a tutti quanti allora perché ho chiamato così la diretta che ora di dire basta ora dire basta perché mi sono un po stancato sono un po stancato di tutto questo voi mi direte che bella scoperta noi siamo un po tutti stancati da ormai di un paio di anni forse già dall'inizio no mi sono stancato non tanto della situazione perché tanto da lì non ne usciamo anzi sarà sempre peggio quindi bisogna soltanto mettersi lì con le armi quelle giuste se intendo queste armi ok questa è l'arma numero uno per combattere questo attacco demoniaco questo attacco demoniaco appunto che è sempre più più scatenato a quanto pare insomma sta raggiungendo il picco piano piano sta avvicinando al picco comunque è ora di dire basta lo dico a me stesso innanzitutto perché vorrei cambiare da oggi un po il registro se riesco ovviamente laddove è possibile magari non riuscirò in tutto in tutto e per tutto ma cercare di smetterla di parlare il linguaggio del nemico perché lui gioca su questo lui gioca sul fatto che noi utilizziamo magari anche critiche parole forti seppur giuste non è che noi diciamo insomma le persone che si espongono dicono determinate cose dicono cose sbagliate però il tono il modo ci fa spesso dimenticare che noi siamo cristiani ci fa dimenticare il messaggio di gesù che ci chiede di essere miti e umili di cuore miti e umili e umile di cuore significa che non dobbiamo essere nei racconti né farci scappare anche delle parole magari non delle parolacce però parole un po troppo dure perché questo l'inganno certo ovviamente non è che uno deve stare zitto perché c'è anche la santa rabbia non dimentichiamoci che giovanni battista non le mandava a dire a erode gesù non è che si è limitato soltanto a diffondere la parola ammoniva le persone anche dicendo insomma razza di vipere sepolcri imbiancati ha rovesciato i tavoli nel nel tempio ecco non che non esista la santa rabbia quindi che uno deve stare per forza sempre zitto come una persona apatica non voglio dire questo però oltre al fatto che ci possa essere della santa rabbia anche un ragionamento insomma quando uno si infervola per un argomento magari lo fa perché sente di aver ragione poi magari non ce l'ha completamente ecco noi però ci dimentichiamo spesso facendo così che utilizziamo le armi del mondo le armi del mondo non sono nient'altro che insomma si faccio vedere la verità ma con le armi del mondo ti spiattaro di fronte la notizia ma utilizzo lo stesso mezzo ok che per carità bisogna usare questi abbiamo non solo questi ma questi abbiamo quindi vanno utilizzati però ci dimentichiamo anche che in quel momento non siamo gioiosi in quel momento non abbiamo la pace che gesù disse appunto vi lascio la pace vi do la mia pace non come la dal mondo ma come la do io voi come il padre l'ha data a me ecco la pace che viene da dio è una pace non so per chi l'ha sperimentata magari durante la preghiera è una pace che veramente ti fa dimenticare cosa intorno in quel momento è una pace che in quel momento se dovesse accaderti magari un asteroide vicino neanche te ne accorgi e troveresti magari anche gaudio da quello è la stessa pace la stessa gioia con la quale i martiri si sono eroicamente offerti ai pagani per non sottostare leggi umane alle leggi pagane appunto e loro sorridevano ringraziavano dio lo davano tant'è vero che molti martiri santi addirittura alcuni leoni alcune fiamme alcuni flagelli non li toccavano non funzionavano il fuoco non bruciava il leone non mordeva il flagello si infrangeva questo perché avevano lo spirito santo la pienezza dello spirito santo siamo in un momento nel quale il mondo sta bestemmiando lo spirito santo che appunto perché siamo nella zona fine dei tempi di conseguenza il mondo sta bestemmiando lo spirito santo qual è il nostro compito il compito delle persone che credono in dio il compito dei cristiani veri che vogliono portare la parola di gesù e quello di portare l'amore la pace e quello di portare la concordia che non vuol dire scendere a compromessi vuol dire far risplendere la verità ma con la gioia fa risplendere la verità con le nostre azioni col volto con il quale ci rapportiamo verso l'altro c'è il nostro volto non so se avete letto qualche biografia dei santi o ne avete incontrato anche qualcuno dei santi moderni persone umili miti persone docili io per esempio avevo una persona una parente signora anziana che non era talmente buona ma talmente dolce ma talmente amorevole possiamo dire così in grazia di dio che bastava il fatto di stare vicino appena prima bocca ti diceva una parola ti metteva una pace addosso incredibile ecco questa è la è ciò che contraddistingue il mondo c'è la persona nervosa la persona che manda un po questo alone di cattiveria mi sarà capitato di trovarmi vicino a una persona che ha pelle no non non vi dice nulla di buono sembra che vi dà fastidio no sentite avvertite qualcosa di negativo ecco dalla parte opposta invece quando siete vicino a un santo vi rendete conto che questa persona vi stupisce da quanto è calma da quanto è gioiosa nonostante magari non abbia nulla da da che esseri gioiosi no non abbiano magari povera o è nella disgrazia però trasmette questa pace incredibile ecco io vorrei mandare questo messaggio questa sera lo dico a me stesso innanzitutto perché mi rendo conto che poi le fatiche anche della tutti i giorni il lavoro il non lavoro per chi appunto non sta lavorando chi sta vivendo delle tribolazioni chi magari si sta spendendo appunto per delle cause giuste a gloria del regno di dio magari portando nelle sedi giudiziarie il suo lavoro però con la fede nel cuore o chi gli agenti che hanno deciso di sospendersi a farsi sospendere per non scendere a ricatto per non bastonare i cittadini o magari quelle persone che hanno deciso di far entrare nei loro negozi tutti indistintamente ecco noi possiamo in tutto questo in tutto questo dobbiamo vedere di come posso dire di amplificare è complificare con la gioia nel cuore cercando con le nostre appunto con i nostri talenti laddove è possibile di portare la gioia nei cuori per riportare la speranza non è facile perché anche buona parte della dei dirigenti ecclesiali possiamo chiamarli così perché sembra più un'azienda che altro ci hanno abbandonato quindi abbiamo pochi pastori santi che ci stanno guidando alcuni quelli che hanno provato a resistere sono stati anche loro sospesi possiamo dire così e quindi noi nonostante queste mancanze questi deficit sotto ogni punto di vista le istituzioni sono crollate ormai da anni ma ancora in maniera più evidente con le persecuzioni la chiesa ha perso un po il suo ruolo di cat e con così come viene detto anche dall'apostolo paolo ovvero di blocco del dell'insorgenza del maligno dei piani del maligno ecco però non maria non manca di assisterci in questi tempi che voi crediate o no le apparizioni che attualmente sono in vigore che ci sono che sono tuttora presenti nel mondo anche la madonna insomma già dalla saletta che è stata una delle prime apparizioni moderne aveva parlato dell'anticristo aveva parlato dell'apostasia aveva parlato delle delle crisi aveva parlato di tutto ecco se noi poi ci rifacciamo anche al messaggio di fatima o di rubac prima dopo appunto c'è l'assaletta poi c'è stato l'urde poi abbiamo avuto tutte le altre insomma una serie di apparizioni una dopo l'altra che ci hanno guidato fino ad oggi a quello che sarebbe stato non è che non siamo stati avvertiti ecco però non abbiamo che cosa appunto l'arma del rosario che maria ci ha esortato ed è ha esortato a recitare ed è l'unica arma indipendentemente da tutte le altre naturali temporali è l'unica arma che fa veramente breccia e che colpisce al segno è l'unica arma che il demonio non può contrastare è l'unica arma che noi possiamo utilizzare anche per sciogliere i nostri cuori quelli degli altri appunto parlando di pace nel cuore messaggio positivo l'amore ma non l'amore volemo se bene attenzione perché poi così confonde importante che ci vogliamo bene lo siamo fratelli tutti no bisogna essere figli dello stesso dio ma bisogna riconoscere di essere figli dello stesso dio non basta il perbenismo l'ecumenismo che tutti siamo uguali no come non tutti si salveranno sappiate che esiste l'inferno e quanto pare nelle apparizioni di la saletta appunto l'inferno si è svuotato per venire sulla terra proprio in questi ultimi tempi vedete no le persone sono incattivite i governi soprattutto con l'italiano lo ribadisco con l'italiano ha un ruolo fondamentale nel piano anticristico soprattutto il governo italiano ha una pressione comunque una direzione demoniaca più evidente delle altre perché da lì che satana vuole ripartire vuole fondare il suo regno dall'italia e ha scatenato ha liberato no i demoni e ha portati qui in terra e noi vediamo le conseguenze persone andiamo a prendere le nostre manifestazioni italiane trieste che pregavano persone pacifiche che sono state colpite con gli idranti vediamo studenti picchiati così o persone tenute fuori da da un qualunque posto come fossero dei cani anzi cani possono entrare se non hai il gp non è nelle chiese non puoi quando hanno tolto l'acqua benedetta non ne parliamo quanti quanti demoni quanti esorcismi sono ci sono moltiplicati da due anni a questa parte provate a parlare con qualche esorcista poi fatemi sapere quante possessioni ma quanti suicidi indotti dalle vessazioni demoniaca ecco allora visto che il demonio è presente ed è molto forte allora io vi esorto a non utilizzare le armi del male ma le armi del bene dell'amore della fratellanza in cristo non fratellanza massonica che i massoni sbandierano da centinaia di anni amore per gli altri veramente tolleranza e chiediamo perdono per i nostri peccati perché se questo sta avvenendo non sta avvenendo perché colpa degli altri che hanno schiacciato il pulsantino perché se il popolo di cristo se i sacerdoti se la chiesa che magari ha un ruolo molto importante ma non dimentichiamoci che la chiesa siamo noi ecco se tutti questi organismi di catechon hanno deciso o hanno semplicemente abbiurato ecco alla fede hanno deciso di accontentare il mondo piuttosto che cristo ecco questo grande catechon ha fatto in modo appunto che le forze del male potessero prendere possesso di questo mondo ecco noi allora dobbiamo riprenderci possesso dell'amore possesso della fede dobbiamo chiedere perdono per tutti questi peccati commessi dalla chiesa dai cristiani in primis che avevano il compito come mandato sappiate quando venite battezzati poi fate la confermazione la crisi ma voi siete cristiani siete sacerdoti re e profeti e profeti sacerdoti nel senso che ovviamente se poste su un'isola deserta e poste gli unici cristiani potreste tranquillamente battezzare potreste anche insomma sostituire ma questo è un caso estremo però re e profeti nel senso che dal momento che lo spirito santo fa parte di voi venite battezzati da quel momento in poi avete se aprite il cuore alla grazia tutti i carismi indispensabili per fare in modo che il regno di dio possa giungere il regno di dio come diceva gesù è già tra voi basta amare il prossimo le beatitudini no ecco allora noi prendiamo esempio dal vangelo riapriamo il vangelo apriamolo se non abbiamo mai aperto e non facciamo domande ascoltiamo leggiamo e ascoltiamo chiudiamoci nella nostra camera via tutti i pensieri cellulari televisori rumori molesti chiudiamoci nella nostra camera andiamo in un bosco andiamo al parco andiamo che ne so in giardino stiamo sul balcone quando chiaramente fa bel tempo se non fa fresco mettetevi lì e spegnete tutto via tutte le problematiche via tutti tutto via non preoccupatevi non abbiate paura di chi ha il potere di uccidere la carne di uccidere il vostro corpo abbiate il paura di chi ha il potere di uccidere l'anima perché il corpo passa l'anima rimane e se finisce all'inferno cari miei e per l'eternità non è solo per adesso allora noi dobbiamo combattere questa battaglia spirituale uniti uniti non siamo soli non siamo molti ma siamo sappiamo quando gesù è stato crucifisso aveva soltanto i dodici insomma intorno a sei poi anche loro a parte chiaramente la madre con le altre marie e giovanni sono tutti fuggiti uno l'ha tradito l'altro l'ha venduto gli altri sono scappati per viltà ecco quindi anche noi vedremo un po questo questo spauracchio saremo un po anche noi come cristiani impauriti magari fuggiremo ecco però ci siamo e quindi rimaniamo uniti non facciamoci spaventare dal demonio che vuole portarci via la pace dal cuore e lo sto facendo molto bene in questo periodo lo sto facendo molto bene e la madonna si appare soprattutto a me giugorio perché chissà io credo me giugorio ma per esperienza personale ma poi sfido chiunque andare lì e stare lì cinque giorni torna a casa completamente cambiato dalla madonna ci insegna all'amore per il prossimo l'amore per dio perché se noi siamo distanti non sentiamo non come essere distanti da una stufa se fa freddo il fuoco c'è ma se è lontano non mi scalla noi dobbiamo prendere e avvicinarci al fuoco non possiamo sperare che il fuoco si sposti verso di noi perché sarebbe superbia anche se dio poi si avvicina viene a bussa la porta come dice gesù a giovanni nell'apocalisse capitolo 3 dice io soli e bussola porta e se non gli apriamo lui non verrà con noi non verrà a cenare con noi a stare con noi ecco allora veramente basta basta io sto valutando anche per il tg questa mattina non ho fatto il tg verità non so se ne me ne siete accorti l'ho messo anche come cosa ho avuto dei problemi miei non riuscivo ho avuto un po una notte un po di trambusto e quindi un po di mal di denti che grazie a di me è passato comunque però questa cosa mi ha dato modo di riflettere un attimo sul tipo di comunicazione da fare e magari da domani cercherò di cambiare un po registro cambiare anche il modo di magari non vi dirò probabilmente le notizie che danno gli altri ok ci sono persone ben più bravi di me che fanno contro informazione che possono raccontarvele ecco io vorrei soffermarmi su quello che fa bene al all'anima e non che non la disturba quindi vorrei appunto come dire esortarvi e invitarvi a fare discernimento fare silenzio fare un po di raccoglimento questa pandemia cosiddetta ha avuto un grande merito una grande grazia ha fatto tornare le persone alla fede ha scosso i tiepidi alcuni non tutti ha cambiato ha convertito i peccatori li ha fatti avvicinare alla fede prima erano lontani poi si sono trovati mi hanno scritto in diversi con un rosario in mano non sapevano neanche cosa fosse prima ha diviso le persone di buona volontà da quelle di cattiva volontà e ha lasciato ovviamente i tiepidi in balia delle decisioni degli altri ci sono tante persone che stanno lottando questo lo riconosco però spiritualmente abbiamo avuto questo primo possiamo dire un pre avvertimento un pre avvertimento che ci ha messo sul chi va la attenzione sta cambiando qualcosa nel mondo più i piani del male avanzano più la luce si avvicina perché dopo la tempesta vi è sempre il sole al di là delle nuvole comunque c'è il sole ora vi leggo un attimino prima di chiudere così ci salutiamo cerco magari di rispondere a qualcuno l'ina dice buonasera la madonna ha voglia di insegnarci questi allora questi non capiscono quelli non capiscono cosa succede la gente comune ok no è un po difficile lina non riesco a capire cosa è scritto perché magari è scritto veloce ti è mancata qualcosa andiamo a vedere un attimino le altre le altre francesca dice poi io mi affido a dio e alla sua volontà quello sempre e lidia dice abbiamo bisogno di sentire parlare solo di dio e dei suoi insegnamenti parole che parole se ne sentono tante la vera parola rimane per sempre vero cieli e terra passeranno diceva gesù le mie parole non passeranno fausto dice sì ma sempre nella merda siamo due anni ok sì certo allora sì ma non è che come posso dire la passione di gesù è stata stata così leggera ha passato tre giorni ma sono stati tre giorni che penso che nessuno di noi sarebbe potuto arrivare alla fine di quei tre giorni a essere vivo su una croce dopo tutte quelle torture se non fosse stato sorretto dal signore e di tutti i martiri ma anche lo stesso gesù ci insegna che la sofferenza è quel fuoco purificatore che trasforma le persone la parabola del figlio al prodigo così una delle tante ci fa capire come una persona che vuole fare da sé alla fine va a finire nella disperazione e ci fa capire che quando torna dio ottiene la vera felicità e questo che noi dobbiamo capire probabilmente chi si sta lamentando ma un po tutti ci stiamo lamentando non ce la facciamo più non abbiamo ancora non abbiamo ancora raggiunto il grado di perfezione spirituale tale da da ringraziare per quello che sta succedendo e allora se dobbiamo se dobbiamo lamentarci da quello il tema di oggi era non lamentiamoci più oppure cambiamo il modo di parlare diamo veramente un messaggio diverso da tutti ma anche da quelli che fanno che dicono bene le cose che le dicono giuste perché chi persone che dicono le cose giuste non è che non ce ne sono ce ne sono tante persone che parlano di dio nella maniera giusta ne sono poche forse non ce ne sono allora bisogna cercare noi di andare a ricercare la sorgente la matrice la luce primordiale io vi ringrazio direi che possiamo almeno per questa sera possiamo chiudere questa diretta io vi ricordo sempre la preghiera del rosario del santo rosario la recita è fondamentale è un'arma contro il demonio innanzitutto perché fa infrangere i suoi piani ma soprattutto è un dono per il nostro cuore perché ci mette pace perché ci dà modo di ritornare a meditare insomma tutto ciò che fa parte della redenzione quindi dalla nascita di gesù fino alla sua assunzione in cielo che sono comunque etappe fondamentali che ci fanno capire il suo disegno il fatto che vi è una nascita vi è una morte ma vi è anche dopo la morte fisica la vita eterna non dobbiamo pensare ovviamente a combattere in questo mondo con le armi giuste come abbiamo appena detto con l'arma anche forse più importante che è il sorriso e la pace nel cuore niente questa sera mi sentivo di dire questo ovviamente perché messaggi di diciamo di resistenza umana così ne ho già detto in passato per quanto riguarda messaggi un pochino così li ho detti in altre sedi magari non qua su facebook ma sicuramente su youtube e sugli altri canali comunque grazie a tutti io vi auguro una santa serata e che dio ci benedica